Un pricks ancora più accogliente a fare a Vicentino con un importante lavoro di ampliamento e all'esterno una miglioria urbanistica per un supermercato che diventa davvero punto di riferimento per le famiglie del luogo e non solo. Abbiamo ristrutturato questo punto vendita che già ci dava delle grosse soddisfazioni ma l'abbiamo fatto perché abbiamo seguito il nuovo format Pricks 2019 vale a dire un punto vendita che ha delle superficie un po' più ampie di quelle di prima intorno ai 1200 metri, quindi una superficie grande ma non grandissima che permette al cliente di fare una spesa completa ma al tempo stesso veloce. È una scommessa per il futuro, personale giovane, un bellissimo negozio, molto ricco e soprattutto una grande operazione di riqualificazione urbanistica. E come sempre Pricks ha dimostrato la sua vicinanza alla gente con generosità, segni di buoni spesa in favore della Caritas, della scuola materna Sacro Cuore, della scuola materna Don Gaetano Plebs, oltre alla donazione di un quintale di crocchette all'EMPA, l'inaugurazione di un altro centro di raccolta cibo per cani e gatti e l'iniziativa del carrello adatto proprio agli amici a Quattro Zampe. È stata una sorpresa anche per noi perché hanno praticamente contribuito ai due asili, alla Caritas, società che hanno bisogno in quanto gli asili sono entrambi paritari e non hanno fondi, per cui è una bellissima azione che loro fanno di apertura verso il paese. Molti prodotti di qualità del marchio Pricks. Nella pasta abbiamo il primo prezzo che è il più basso del mercato, abbiamo il prezzo intermedio, abbiamo la marca Lidl che è la Barilla, ma abbiamo anche l'eccellenza, vale a dire il pastificio Liguori, che in Italia la pasta di Gragnano è considerata il top. Ma questo è soltanto un esempio fra le tante eccellenze dall'alto standard qualitativo. Un reparto frutta e verdura eccezionale perché ogni giorno abbiamo le consegne dirette, quindi standard qualitativo elevato e soprattutto costante e privilegiamo fornitori locali. Noi ascoltiamo i clienti, i clienti ci chiedono sempre di più, uno di risparmiare, ma due anche prodotti di qualità, vogliono mangiare bene. Abbiamo creato una linea anche eccellenze di Pricks, non ci accontentiamo del tortellino normale. Prendiamo il tortellino di valeggio, pasta sfoglia sottilissima, in un minuto si cuoce con all'interno il prosciutto crudo. Ad esempio abbiamo il baccalà mantecato già pronto, ci lo facciamo fare dal miglior gastronomia di Vicenza. Baccalà da Vicentino uguale, abbiamo il ragù d'anatra, anche quello fatto da una gastronomia già pronto. Da noi puoi acquistare dei prodotti, arrivi a casa in due minuti, fai da mangiare e fai da mangiare benissimo. Abbiamo una linea particolare, linea bio, che viene rinnovata completamente e sta avendo un incremento incredibile. Ci dà grosse soddisfazioni e soprattutto siamo costretti a cercare sempre novità perché il cliente è sempre più attento a questi prodotti, vuole mangiare bene, vuole star bene e questo è un po' anche la nostra mission. Grazie.